Ciao a tutti, il mio nome è Enea, ho 21 anni e ho un progetto molto ambizioso a cui sto lavorando. Questo primo giugno 2024 tenterò un qualcosa che mai mi sarei aspettato di affrontare, almeno non è a così poca distanza dal mio periodo di scarsa motivazione verso uno sport che non mi stava più dando le soddisfazioni di una volta. Quest'anno ho voluto farla abbastanza grossa, un po' più del mio solito, ma è grazie a questo pizzico di follia che le mie uscite sono sempre state uniche nel loro genere. Su una salita a cui sono molto legato ho deciso infatti di provare per la prima volta il mio doppio everesting. Questa sfida, che prevede il raggiungimento di un dislivello positivo pari a 17.696 metri, sarà sicuramente una sfida contro me stesso e sicuramente una dimostrazione che tutto è possibile se visto con gli occhi giusti. Dovrò dare il tutto per tutto su una salita, quella del Monte Generoso, che dovrò scendere per ben 22 volte per una distanza di 9,81 km, con pendenze medie dell'8,5% e punte al 20%. Per riuscire in ciò sarà necessario l'aiuto del mio team, che si sta ancora formando e sviluppando, e di un'organizzazione logistica non indifferente. Per garantire un giusto supporto sarà necessario diverso materiale e anche un fotografo videomaker che si occuperà di immortalare i momenti più importanti e salienti dell'impresa. Con il vostro aiuto potrete contribuire anche voi alla realizzazione di questo progetto, finanziando una parte delle spese e favorendo quindi le migliori circostanze con le quali affrontare il tutto. Per intanto darò al massimo e a tutti coloro che mi aiuteranno e mi supporteranno in questa impresa, vi ringrazio di cuore. Grazie. Grazie.